La tana del frerito Ciao prederigno Scusami, dov'è lo schermo dove è proiettata la nostra videocall? È su quest'affare qua È un portatile, ti ricordo Ah, è un pc portatile Porca p***a Pensavo fosse un fisso, infatti non capivo È fisso, cioè ormai è da mesi che ti dico Che in verità il fisso non ce l'ho È ora di comprarlo Eh, lo so, infatti ho chiesto al buon Cyber Povero Cyber, Cyber è veramente sottomesso da tutti i talent Vediamo se ci sono iniziati il Cyber Cyber, comprerai un pc al buon Denamond? No, no, no Denamond mi ha scritto in privato che lo vuole, proprio subito Mi ha detto, Cyber, ormai il pc io mi incazzo Già l'hai impostato in modo sbagliato perché Nel senso, Cyber Nel senso, non compra nulla Anzi, io non mi Non dico che assolutamente Non deve spendere assolutamente nulla per il mio pc No, no, Cyber deve proprio Prendere un sacco di pc Però un pc io credo te lo possa tranquillamente comprare, Cyber Ma in che senso? Lui mi ha detto che me l'avrebbe cercato Solo che non c'erano più i pezzi in commercio Infatti effettivamente Ah, questa qua si chiama la truffa cyberiana Praticamente il Cyber No, no, no Il Cyber praticamente In realtà lui è un truffatore Praticamente, no, ti spiego Lui dice, promette i pc E poi lui ti fa dare un codice Che è il codice iMac Della tua scheda di rete E ti entra nel pc portatile che hai E ti mina tutti i bitcoin Si chiama la truffa siberiana Ah, micchia E allora diamoglielo subito Ci sta, ci sta E allora diamoglielo subito